E allora, proviamo a andare a lontino, a questo forseo, proviamo a riprendersi questi spazi che continuano a dirci no, siamo dato stare a San Leonardo, non siamo dato più a stare Roma, vediamo se almeno un totem possiamo appellirlo, non ci diamo tanto. Vediamo che ci pensiamo di appellire qualche cosa, che non era molto più, e indirlo ancora di più, questa città. E allora, quando si portare, vogliamo servizio nei testi a te e a due cantieri, e vogliamo fare nulla di noi, a questo forseo, 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 a questo forseo. Vecchia! 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 Vecchia!